Ciao sono Sio, quello che carica i video tutti i giorni Se non avete visto un video nuovo al giorno mio negli ultimi due mesi è perché avete un bug Comunque sto lavorando a due nuovi video Uno c'è un alieno, l'altro c'è un iPhone lungo E inoltre sto facendo i vlog perché non sono ancora finiti, ne devo fare dieci in totale Poi ho lavorato anche ad alcuni fumetti, Scottex Magazine 12 e Grauccio che escono a fine mese E evviva che bello che è uscito, lo potete già comprare se volete Inoltre ci vediamo a Luca Ecco arrivano i video, promesso A meno che, cioè, se muoio, se muoio no Cioè, ne ho programmato uno e quello esce anche se muoio Gli altri no, se muoio Speriamo di no Però non si sa mai